Ciao, io sono Francesco Gavello e sono un consulente e formatore su Web e Novi Media. Buongiorno, io sono Valentina, docente della Studio Samo Academy. Ciao, sono Guglielmo Rigoni, consulente e docente di email marketing. Ciao a tutti e benvenuti al corso di Social Media Strategy. Io sono Futura Pagano, sono la Digital Strategist, mi sono occupata nel passato di Social Media Management, Monitoring e delle strategie per grossi brand per agenzie e come Freelance. Ciao a tutti, sono Jacopo Fasquini, accanto a me c'è Smoli Giovi. Siamo qui per Studio Samo, per l'Academy. Oggi vi parleremo di User Experience Design, Interaction Design, Usabilità, CityWeb. E benvenuto o benvenuta al corso su YouTube. Ciao e benvenuto al corso di Facebook Marketing in base di Studio Samo. Oggi siamo qui nell'Academy di Studio Samo, perché di cosa dobbiamo parlare? Proprio di email marketing, come vedete dalla slide, come fare email marketing. Ciao e benvenuto al Copywriting Webinar di Academy Studio Samo. Io sono Silvia Segana, in arte come si vuole, e ti accompagnerò in questo corso per farti conoscere la figura del copywriter e quindi anche il lavoro del copywriter. Buongiorno e benvenuto a questo video corso base di Google Analytics, il software di Google per l'analisi del comportamento degli utenti all'interno del tuo sito web, della tua app, semplicemente del tuo blog o del tuo e-commerce. Quest'oggi parleremo di Facebook nella sua componente legata all'advertising, ovvero Facebook Ads. In questo corso affronteremo una serie di tematiche verticali su Facebook che ti aiuteranno a capire come gestire a livello professionale una pagina. Un saluto da Bernardo Motisi. Per Academy Studio Samo vediamo oggi un argomento molto scottante, la link building e alcune tecniche avanzate. Ciao e benvenuto al corso su LinkedIn di Studio Samo. Per prima cosa mi presento, sono Alessandro Franza e mi occupo di Digital Marketing dal 2009. Amo il web in tutte le sue sfaccettature e le opportunità che dà. Ho una forte passione per i social network, in particolare per Twitter, Google Plus e naturalmente per LinkedIn. Buongiorno a tutti, benvenuti alla prima lezione del corso base su Google AdWords. AdWords è il programma pubblicitario a pagamento di Google che consente di ottenere visibilità mediante annunci sponsorizzati. Soprattutto cerchiamo un po' di fare ordine su quella che è il nucleo dell'ottimizzazione esterna. Ciao, sono Carlotta Silvestrini e sono una docente di web design dello studio Samo. Oggi ti devo parlare di web design strategico. L'attività di blogging è un'attività densa. Ci sono gli articoli da scrivere, gli articoli da programmare, c'è il piano editoriale, c'è il calendario. Ciao a tutti e benvenuti al corso creato da Academy Studio Samo. Questo corso tratta di Twitter marketing, in particolare per tutti gli utenti che si vogliono avvicinare, o si sono avvicinati da poco, da poco a questo social network. Poi ci sono i commenti che dobbiamo gestire, dobbiamo complicare. Ci sono i social, bisogna gestire Facebook, Twitter, le community. Quindi poi bisogna fidelizzare i lettori. Quindi è un mondo complesso. Per questo con lo studio Samo abbiamo pensato di creare, di pubblicare questo videocorso, questo videocorso di blogging che affronta diversi argomenti. Lascio di dare il benvenuto al corso WordPress. Passo passo dal sottoscritto Andrea Barchigiani, e in collaborazione con Studio Samo abbiamo realizzato ben 20 video lezioni che ti permetteranno di conoscere una piattaforma WordPress da là alla zera. Benvenuto al corso SEO per WordPress di Academy Studio Samo. Buongiorno a tutti. Questo qua è il modulo dedicato all'Instagram e a come utilizzarlo al meglio. Io sono Jacopo Matteuzzi e se hai già seguito il mio corso SEO, mi conosci già. In questo corso ci occuperemo di come ottimizzare al meglio il vostro sito o blog realizzato con la piattaforma WordPress. Andiamo adesso a vedere un altro tipo di campagna che riguarda specificatamente l'indirizzare le persone al nostro sito web. Le chiamo nuovamente Crea Inserzione o Crea Campagna e scegliamo a questo punto come obiettivo l'indirizzare le persone ad uno specifico sito web. La presenza di un piano editoriale, la presenza di una pianificazione di quelli che sono i contenuti di un blog è un elemento fondamentale del blogging professionale. Per creare invece sempre all'interno del gruppo Cucce per Cani dei nuovi annunci ricordiamo che finora ne abbiamo creato solo uno. Basta entrare nella scheda Annunci ci ritroviamo l'annuncio creato poco fa. Per inserirne altri all'interno dello stesso gruppo di annunci basta cliccare sul bottone rosso. Innanzitutto partiamo dalla dashboard. Allora sulla sezione pagina atterriamo appunto sul diario della nostra brand page sulla quale troviamo appunto i contenuti che abbiamo pubblicato e poi una serie di tab quindi la tab foto, la tab post sulla pagina dove vengono inseriti i contenuti pubblicati da altri utenti. Compaiono però degli altri. No, andiamo ad esaminare uno per uno. Un'altra cosa che abbiamo visto è l'url della pagina. Allo stesso modo di quello che abbiamo visto per il title il nostro url, l'indirizzo della nostra pagina pur contenendo le parole chiave le ha separate da altre parole. è uno spot che ancora dà i brivi per la sua capacità comunicativa. Non è uno spot che ci dice ehi attenzione compra Levis perché siamo abbiamo potremmo uscire dal mercato ricomprali perché sono figli. È uno spot che riprende un autore non a caso di quella che è una delle probabilmente una delle opere più copiate a livello letterario. Il copo della mail è composto da determinati elementi di cui vi avevo parlato anche nella precedente lezione. Vedete che c'è una pretestata get the copywriting for conversion, recording and your copywriting resources vedete che non è il classico non riesce a leggerli mail clic qui però vedete che sulla destra c'è view this email in your browser ma è nella parte destra di conseguenza cosa succede? Che quel contenuto specifico get the copywriting eccetera eccetera che vedete in alto a sinistra viene visto con da mittente oggetto e dopo c'è questa pretestata quindi è un motivo in più per far aprire la nostra email. Insomma ci sono diverse ore di formazione all'interno di queste video lezioni quindi non perde l'altro tempo ed inizia subito con la prima lezione. Mi auguro di trovarvi dall'altra parte quindi a seguire il mio corso il corso che di email marketing si troverà all'interno dell'academy di Studio Samo e a presto e cercatemi. Sei pronto? Cominciamo subito. Grazie di tutto grazie all'attacco di Studio Samo e grazie soprattutto per la pazienza e la fiducia data. Ciao! Ecco ragazzi tempo così io torno a gestire i commenti.